Ciao a tutti, sono Elisabetta Canalis e quest'anno faccio Zeligas e mi andiamo depagnate e a Katia Follesa, che è quella bionda. E volevo dirvi, mi raccomando, state a casa mercoledì 18 dicembre perché c'è Zelig, c'è la prima di Zelig. Poi, dalla settimana successiva invece, andremo in onda il lunedì. Quindi mi raccomando, lunedì tutti a casa, tranquilli, avete fatto il weekend, eccetera. Un bacio, ciao, non vi perdete Zelig! Grazie a tutti, grazie a tutti.